Continuano anche per lei i vari incontri nei quartieri della città. Ieri è stata la volta di Gimarra. Quali sono le richieste dei cittadini e che cosa è emerso? Abbiamo aperto la campagna elettorale a Gimarra ma sul tema generale della sanità. Ieri invece è stato un focus più preciso sul quartiere. C'è stato un bilancio sia delle aspettative che ovviamente del tema che alleggia ogni volta che si parla di Gimarra che è quello del completamento in interquartieri evidentemente. Ora si tratta di capire, guardando avanti, dopo il fallimento di questo progetto, di questo preventivo che è stato fatto indubbiamente con superficialità sia nella stima dei costi che nel rispetto dei tempi e delle proroghe che poi non sono state concesse, guardiamo avanti, si è detto, all'opportunità che ci verrà data dei due casellini, quello di Fenile e quello di Santa Menerando ovviamente che devono lavorare in coppia. Sappiamo che il casellino di Fenile dovrebbe essere realizzato entro il 2025 e quindi speriamo contemporaneamente quello di Santa Menerando in modo tale da verificare l'effettivo alleggerimento dell'Adriatico di questa situazione nuova, interessante. Perché poi il tema di Gimarra è il suo collegamento non tanto probabilmente con interquartieri che avrebbe scaricato tutto il traffico lì se non fatta con ingenti risorse che alla prova dei fatti si sono dimostrate essere insufficienti o comunque mai certe, con impatti ambientali e quello che sappiamo, ma probabilmente adesso si tratta di risolvere un migliore collegamento con la statale dei residenti che quando gli edifici in costruzione saranno completati e quindi entrerà a pieno regime quanto già è partito, non dico le utilizzazioni nuove, si possa migliorare l'accessibilità alla statale. Infatti tra le richieste sono le richieste di un paio di rotatorie sulla statale che possano diminuire la velocità e inserire meglio l'inserimento sull'asse dalla via che conduce alla statale stessa. C'è una richiesta in questo quartiere oggettivamente e paesagisticamente molto bello e anche dotato di impianti sportivi, però di aree gioco, perché poi gli impianti sportivi vengono affidati a società che li gestiscono e che hanno degli orari, hanno una gestione, hanno delle recinzioni, si sente l'esigenza di aree attrezzate per il verde del gioco dei bambini in un modo più consono alla città delle bambine e dei bambini, quindi bisognerà concentrarsi a trovare laddove ci siano spazi pubblici o anche insomma con l'accordo con privati che vogliono mettere a disposizione del terreno per un investimento comunale che garantisca, nella posizione più o meno baricentrica, un parco giochi, ecco perché sembra un po' un paradosso che in un quartiere così verde non ci sia un parco giochi. Poi è tornato di moda questo tema di cui adesso forse non vale la pena parlare perché ne abbiamo parlato altre volte, però della sanità che si sta dimostrando in tutti i quartieri un'urgenza e quindi non è una strumentalizzazione della campagna elettorale, è un tema che riguarda un po' tutti. Su questo tema siete stati molto critici nei confronti della Regione? Ma noi siamo critici ma anche propositivi, voglio dire, nel senso abbiamo detto, poi i fatti di Cronaco lo dimostrano, 30 minuti sull'asfalto in mancanza di un'ambulanza, anche partire dai servizi minimi, la terza età delle Marche penso che si possa permettere qualcosa di più come servizio, ma noi vogliamo un ospedale che sia, pur riconoscendo l'ospedale nuovo di Pesaro che sarà per acuzia, che sarà per la chirurgia complessa, quel ruolo di specialità di medicina generale e quindi le cliniche, come si dice, che precedono la fase operatoria. Ecco, Fano può avere un ospedale di quel livello perché assolve una grande risposta per le vallate. Quindi, ecco, è venuto fuori di nuovo questo tema qui ed è venuto poi fuori il tema sempre di un corredo del quartiere quando sono finite queste cose in relazione anche al nuovo piano lavoratore recentemente adottato, che a mio avviso, che l'ho votato, è migliorativo del piano lavoratore di Aguzzi e consente, poiché ricade nella vecchia normativa, di essere migliorato con varianti molto gestibili. Avete parlato anche di biodigestore? Abbiamo parlato anche di biodigestore perché una cosa che è venuta fuori dal pubblico è la richiesta di una città che sappia cogliere meglio le opportunità e si sappia collocare con una visione più strategica rispetto anche alle tante cose che sono state fatte però un po' a macchia di leopardo, approfittando di finanziamenti PNRR relativi a dei bandi che andavano sicuramente colti, però qual è la cornice dentro la quale tutto questo si colloca? Questo sfugge a molti cittadini, cioè dove portiamo Fano? Quale ruolo vogliamo farli giocare? Quattro anni di gestione della sanità, per esempio, non ritorno sull'argomento, ma abbiamo fatto sentire noi la nostra voce come hanno fatto sentire la loro voce i cittadini di Ascoli e di San Benedetto che hanno mantenuto i due ospedali, per esempio, non mi pare. Allora qual è la visione di Fano se rinunciamo a un biodigestore di fatto finanziato, che sarebbe stata una grande opportunità di crescere per Aset anche. Ha dichiarato che fanno scontanni di mancata visione di confronto, per cui che cosa farà lei in futuro? Beh, innanzitutto il confronto serve sia negli amministratori, quindi maggioranza e opposizione, ma soprattutto in maggioranza perché gli incontri di maggioranza sono stati davvero pochi e poco decisivi su alcune cose, nel senso le decisioni della Giunta venivano consumate all'interno della Giunta come suo diritto, ma la maggioranza deve partecipare, ma deve partecipare al Consiglio Comunale. È accaduta la cittadinanza su alcune decisioni che riguardano anche la memoria collettiva, penso anche all'anfiterato Rastad, no? Per carità, non voglio riepire un dibattito, però insomma qualche ferita lascia quella soluzione. Io spero, poi mi auguro, perché voglio bene la città, che venga fuori una bella soluzione. Finché non è finita l'ultima pietra io non parlerò su quello, perché non mi pare corretto. Però insomma è una cosa da condividere, perché è un grande investimento su una cosa che invece da un lato coglieva l'esigenza di un rinnovamento, che poteva passare per un restauro, una riqualificazione, dall'altro però c'era tanta gente affezionata. Ma questo deve avvenire per ogni passo che riguardi appunto la sensibilità collettiva, perché l'amministrazione rimane meno sola su alcune scelte, la cui responsabilità ovviamente grava sempre sull'amministrazione ovviamente, ma con un processo partecipativo questa responsabilità si spalma, si condivide, si migliorano le scelte e quindi noi crediamo che anche con i consigli di quartiere, su cui sono contento che tutte le forze in campo siano d'accordo, si possa ristabilire un rapporto più intenso tra esecutivo, amministrazione e cittadinanza.